nel secondo trattato del convito dante afferma che fra tutte le bestialità stoltissima vilissima e dannosissima e quella di chi crede non esservi altra vita dopo di questa quelli che non credono secondo plotino sono coloro che hanno dimenticato la loro origine hanno perduto la loro memoria e non ricordano da dove provengono nell'antichità la dimenticanza era simboleggiata dall'aver bevuto alle sorgenti del fiume lete in un mondo dove come scrive josef bronsky vivere sta diventando sempre più difficile quanto fare un castello con le carte da gioco o costruire una casa di chicchi d'uva l'azione di coloro che non hanno fede è condannata per loro stessa natura a deragliare nel dolore e nella sofferenza specie in presenza dei momenti cruciali della vita come il dolore la vecchiaia la malattia e la morte per i buddhisti le sole componenti che accomunano ogni essere vivente oppure nel crudo cinismo dell'indifferenza di coloro che credono che tutto sia governato dal caso a riguardo il biologo edwin conklin ha scritto che le probabilità che la vita abbia avuto origine da un incidente casuale è paragonabile alla probabilità che il dizionario derivi da un'esplosione in uno stabilimento tipografico l'insensatezza di un simile modo di pensare è simile a chi crede che una casa si possa mettere in piedi da sola senza leggi operai e in mancanza dell'architetto che è in grado di progettarla se tutto fosse davvero affidato al caso o soltanto alle forze dell'uomo la vita e il mondo sarebbero da tempo distrutti severino boezio scriveva nel deconsolazione poco prima di salire sul patibolo se per caso si intende ciò che avviene senza ragione e senza alcun nesso di cause io dico che il caso non esiste e che il vocabolo è vuoto di significato se vi è un dio che tutte le cose stringe in un ordine di leggi quale posto vi può essere per il caso il niente non può venire da niente questa è una massima certa e nessuno degli antichi la contraddetta questa massima è come il fondamento di ogni ragionamento ma se una cosa non avesse la sua sorgente in una causa ensa sembrerebbe nascere dal nulla e se questo non è possibile non è possibile che possa esistere il caso secondo poseidonio chi è in grado di contemplare le bellezze del cosmo viene in contatto con ciò che è immutabile e divino gli orientali consideravano la natura il corpo di dio hegel definiva la filosofia la considerazione esoterica di dio e albert einstein affermava che i veri scienziati non solo hanno avute delle esperienze religiose ma mistiche per chi non ha fede nella natura divina del mondo sarà in molti casi condannato a cadere vittima del freddo bisturi della scienza tecnica degli strizzacervelli e di tutti coloro che hanno così poca stima dell'uomo da ritenerlo un semplice animale dotato unicamente distinti da sottomettere e controllare mediante terapie e farmaci riguardo all'uso smodato e forviante che oggi si fa della psicanalisi a meteo rotondi ha scritto che mancando dell'elemento essenziale a muovere lo spirito la psicanalisi è il palliativo per chi non crede un surrogato ad uso e consumo degli atei i quali non troveranno mai con essa la vera pace è il prodotto tipico di un'epoca di abbassamento di tutti i valori spirituali come in tempo di guerra era consumato come caffè un miscuio fatto di ghiande e di noci e aggiunge in seguito che ogni religione è nulla se soltanto esterna è fatta consistene in riti e cerimonie ma dove non fosse efficace la religione nient'altro potrebbe valere se l'uomo fosse davvero una semplice bestia per quale motivo dovremmo avere la spinta in grado di elevarci al di sopra della banalità e delle meschinerie della vita quotidiana come si può davvero ritenere che l'intera storia umana sia sempre stata governata dai bisogni più primitivi e materiali le opere di michelangelo mozart dante leonardo di tutti i grandi saggi i maestri di vita di arte di scienza di morale i santi di tutte le religioni i geni non dimostrano che l'uomo è qualcosa di più della misera bestialità a cui il nostro tempo pretende di ridurlo e incatenarlo non ascoltare più le parole dei saggi e dei grandi maestri significa condannare il mondo e l'umanità sulla strada dell'oblio e del dolore l'uomo senza religione ha scritto heidegger diventa preda della superstizione come lo scientismo l'economia la tecnologia la politica idoli di carta dell'epoca contemporanea che hanno reso l'uomo vuoto e arido san giovanni della croce nella salita al monte carmelo ha scritto dio è presente e dimora sostanzialmente in qualsiasi anima anche in quella del più grande peccatore di questo mondo il che vuole significare che è fondamentale ricercare il divino presente in ciascuno di noi nel nostro agire retto nella purezza delle nostre intenzioni nell'aspirazione al bene nello studio di ciò che è bello buone e vero in sintesi nella legge dell'amore